Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita anche il primo tempo, forse è stata condizionata un po' dai episodi, secondo me il rigore nostro andava sanzionato diciamo con un'ammunizione perché era un fallo da ultimo uomo, però va bene così il primo tempo è stato condizionato un po' dai episodi anche se abbiamo fatto una buona partita, mentre il secondo abbiamo aumentato il ritmo, abbiamo aumentato i giri, infatti abbiamo creato tanto, subito abbiamo fatto il gol del Parigi ed è arrivata questa vittoria meritata perché è stata penso strameritata per la mole di gioco che abbiamo creato. Sì, è stato un bel gol, solo lì potevo fare gol perché se non mi la palla sul secondo pallone sarebbe passata, sono molto contento perché in fase realizzativa non è che in questi anni ho fatto tanto, però oggi alla prima partita di campionato subito ho fatto gol. Sì, loro hanno abbassato un po' i ritmi perché su 2 a 1 per loro cercavano di addormentare un po' la partita, mentre noi abbiamo alzato i ritmi, ci siamo messi a posto tra il primo e il secondo tempo negli spogliatui, abbiamo sofferto molto di meno l'imbucata tra le linee, infatti ne abbiamo prese pochissime il secondo tempo, infatti quasi nessuna e siamo riusciti a uscire bene anche in palleggio, molto bene direi, abbiamo creato tanto, siamo stati anche belli da vedere in tante fasi del secondo tempo. Ci siamo messi a posto, abbiamo chiarito due o tre cose che magari stavamo sbagliando e che non andavano, però penso che la partita in fase di possesso sia stata la stessa anche il primo tempo, solo che in fase di non possesso siamo migliorati molto il secondo tempo, ci siamo messi a posto e quindi è venuta fuori la squadra che siamo realmente. Ora c'è la sosta, però sarà una bella emozione per me tornare lì perché ho vissuto due anni fantastici e non è tanto la durata di quanto sono stato lì ma è quello che è la promozione, la salvezza e quindi perciò sarà una grande emozione, però cercherò di gestirla e penso di riuscire a gestirla al meglio per tirare fuori una grande prestazione.